Siamo ormai giunti alla fine dell'anno scolastico 2020 e il 16 maggio scorso la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha chiarito i dettagli sulle bocciature e le promozioni di questo strano anno scolastico funestato dal coronavirus. Il MIUR si era pronunciato contro il 6 politico ma ancora non era chiaro se e in quali occasioni si poteva bocciare uno studente. Nella conferenza stampa appunto del 16 maggio la ministra Azzolina ha chiarito definitivamente che non ci sarà nessun 6 politico ma ci saranno valutazioni serie per quegli alunni con insufficienza. Le stesse saranno riportate nei documenti di valutazione e gli studenti avranno il diritto di recuperare. Se uno studente riceverà un voto sotto la sufficienza potrà recuperare a inizio prossimo anno scolastico. Si può non ammettere ma solo in alcuni casi molto circoscritti. Ad esempio nel primo caso se il consiglio di classe non ha alcun elemento per valutare lo studente che non ha frequentato nel primo periodo didattico questo ne impedisce la valutazione. In questo caso serve unanimità del consiglio di classe per non ammetterlo. Nel secondo caso quando uno studente ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi esclusi questi due casi lo studente verrà ammesso e recupererà le insufficienze.